Intanto, lei si aspettava quello che per tanti è stato un esito sorprendente, l'affermazione della sinistra dopo la vittoria al primo turno della destra e come giudica la decisione di Macron di chiedere al premier dimissionario Attal di restare al governo, almeno per il momento? Allora, io non mi aspettavo questo risultato, anche se venerdì ho passato tutta la giornata in Francia, a Aix-en-Provence, alla riunione più importante che si tiene ogni anno di economisti e persone della cultura francesi. Non ci si aspettava questo risultato. Vorrei sottolineare che ho già visto che lei ha in serbo la copertina del mio libro Demagonia. Effettivamente la democrazia oggi pone molte preoccupazioni, io ho parlato di agonia della democrazia, però questo caso francese ci deve indurre a tenercela stretta la democrazia, perché è uno strumento, quando è una democrazia come è nei nostri paesi, reale e senza trucchi, che ci consente, se abbiamo serie preoccupazioni, di manifestarle nell'elezione e di ottenere risultati. 7 luglio in Francia, splendida giornata, la gente non è andata al mare. Certo. Lei quindi crede che la migliore espressione della democrazia sia stata non solo la partecipazione dei francesi, ma la decisione di socialisti, liberali, ma anche dell'estrema sinistra di Mélenchon di fare sbarramento, e quindi non crede che quella, come l'ha definita Bardellà, sia stata un'alleanza del disonore per impedire che il primo partito, al primo turno, l'Assemblemane Nazionale, prendesse e assumesse la responsabilità di governare? No, credo che sia stata un'alleanza del grandissimo timore, e capisco che Bardellà possa dolersene, ma questo fa parte della politica, e non sono trucchi questi. Ognuno in politica valuta qual è il male maggiore da evitare in un determinato momento, e cerca di evitare quello. Poi ci sono delle subordinate, e adesso sicuramente ci saranno dei litigi, delle divergenze nel campo non Bardelliano e non Lepeniano della Francia, ma non trovo niente di né irregolare né strano, vedo un paese che con forza ha manifestato le sue forti opinioni. Senatore, un grandissimo intellettuale, forse uno dei più importanti intellettuali viventi, di Jacques Attali, che è stato peraltro consigliere di François Mitterrand, oggi in un'intervista alla stampa, segnala l'ingovernabilità del paese e di un Parlamento sostanzialmente diviso in tre grandi blocchi, e ipotizza o il mantenimento di Attal al governo, oppure tocca ai tecnici. L'Italia può esportare il modello dei governi tecnici e di unità nazionale, che furono prima il suo, e poi quello di Mario Draghi, a seguito però di una crisi che non era politica, ma era economica, e nel caso di Draghi anche legata all'emergenza sanitaria. Era una crisi anche politica, perché quando il Presidente Napolitano ha dovuto rimediare alla devastazione a cui l'Italia andava incontro nel novembre 2011, andando verso il fallimento del paese, c'erano fortissime tensioni tra la parte di Berlusconi e la parte di Bersani. L'unità nazionale è consistito nel farle queste due parti lavorare insieme, addirittura consentendo da parte mia e dei miei colleghi di governo di incontrarli separatamente, perché avrebbero considerato una vergogna farsi fotografare con quelli dell'altra parte. Però in questo modo, con grande responsabilità per un intero anno dei partiti, il paese è stato salvato finanziariamente e cose simili in condizioni molto diverse con il governo Draghi.